Il tuo canale youtube non cresce? Genera pochissime visualizzazioni e ancora meno iscritti? Ti sembra che sia rotto o penalizzato in qualche modo? Oggi scopriamo come aggiustare il tuo canale youtube e ridargli nuova vita. Tutti i creator e gli youtuber, grandi o piccoli, hanno pensato almeno una volta nella vita, ma spesso anche di più, che il proprio canale avesse qualcosa che non va. Magari hanno pensato che l'algoritmo non voleva in nessun modo spingere i propri video, l'ho pensato anch'io e se l'hai pensato anche tu, lasciami un like così vediamo in quanti siamo a condividere questa preoccupazione. Ma se l'hanno pensato tutti, perché allora alcuni canali poi sono arrivati al successo a numeri interessanti e altri canali sono ancora fermi al palo? La differenza è che chi è arrivato ai risultati sperati non si è fermato alle prime difficoltà, non si è accontentato della routine e del ripetere sempre le stesse azioni sperando che portassero un risultato diverso e soprattutto non ha mai creduto che il proprio canale fosse rotto, ma ha creduto nelle proprie passioni e nelle proprie capacità. Non ti preoccupare, questo non sarà un video di retorica, ma sto per darti tre consigli pratici per far ripartire il tuo canale. Quello che però è importantissimo capire prima di cominciare a lavorare, altrimenti il lavoro sarà inutile, è che se il tuo canale non funziona, quello che stai facendo non va bene, i video che stai facendo non stanno piacendo alle persone. E questa consapevolezza non deve buttarti giù o spingerti a mollare tutto, deve essere parte del tuo processo di crescita e comprensione della piattaforma e del pubblico. Anzi ti dirò di più, i creator che vivono questa fase sono forse quelli maggiormente destinati al successo, perché hanno già vissuto la fase delle delusioni e degli insuccessi, hanno già fatto ed eliminato molti degli errori che inevitabilmente accadono nella vita di ogni creator. E' come quando si dice si può solo migliorare, è esattamente così, anzi si deve solo migliorare. E allora come puoi ripartire da questa situazione stagnante per rilanciarti? Vediamo tre esercizi che io farei fin da subito per far ripartire il tuo canale. Il primo esercizio che ti propongo è lavorare sui titoli e cambiarne lo stile. Prova a passare da un titolo ottimizzato per la ricerca, pieno delle parole chiave giuste, a un titolo che catturi l'attenzione delle persone, che faccia pensare devo vedere questo video. E siccome mi piace testare quello che vi propongo, è esattamente quello che ho fatto io con il titolo di questo video. Ho pensato a quale potesse essere una tua preoccupazione, una tua paura, ad esempio quella di avere un canale che non funziona, penalizzato o nascosto dall'algoritmo. E allora invece di intitolare a questo video i migliori consigli per crescere su YouTube, che sarebbe anche andato bene come titolo, ho scelto invece Il tuo canale è rotto. Immagino che tu abbia pensato che possa essere proprio così per il tuo canale e che tu abbia necessità di sapere come aggiustarlo. Tra l'altro più forte sarà l'emozione inserita in questo titolo, più forte sarà l'impatto e la voglia di cliccare delle persone. Prova a pianificare i prossimi tre titoli dei tuoi video, anche prima di pianificare e ideare i video stessi. Prova a pensare che cosa non può essere assolutamente ignorato dal tuo pubblico. Il secondo esercizio che ti consiglio di fare è ragionare sugli argomenti che porti. Fermo restando che avrai una nicchia, un settore di riferimento e che tutti i tuoi video faranno riferimento a un macro argomento, e se non è così dovrebbe esserlo, all'interno di questo macro argomento come scegli gli argomenti dei singoli video. Sei sicuro che siano di interesse per statisticamente la maggior parte del tuo pubblico ideale. Se agli albori di un canale è utile metterci nei panni del nostro pubblico perché è più facile, ci sentiamo più a nostro agio, riusciamo facilmente a trovare idee, piano piano dobbiamo toglierci dai riflettori e mettere sotto i riflettori il nostro pubblico. E allora quello che piace a noi è la stessa cosa che piace al pubblico? Purtroppo in molti casi non è così e dobbiamo in qualche modo andare incontro ai gusti di chi ci segue. So già che riceverò dei commenti contrariati per questa affermazione, perché si dice che il bello di YouTube è essere se stessi, raccontare le proprie passioni, ed è vero sono d'accordo, ma la mia opinione è che se vuoi solo parlare delle tue passioni, allora puoi comprare un diario e appuntarle lì. Ma se vuoi che tante persone ti ascoltino parlare di queste passioni per minuti, ore, tutte le settimane, allora devi tenere conto di quello che vogliono ascoltare. Non puoi pretendere di avere un pubblico se non accogli questo pubblico e le sue esigenze. Per questo motivo ci vogliono dei compromessi. Per farti un esempio sul mio canale di giochi da tavolo mi piace pubblicare tutorial, quindi spiegazioni delle regole e classifiche con consigli per gli acquisti dei giochi che mi sono piaciuti di più. E poi c'è un format che a me non è mai piaciuto, che sono i classici haul, ovvero le liste di acquisti, in questo caso le liste di giochi acquistati. A me sembra che non ci sia assolutamente niente di bello e nessun valore nel mostrare una scatola chiusa, nel dire ho comprato questo gioco, spero che sia bello ma non l'ho ancora provato. Eppure al mio pubblico questi video piacciono molto. Sarà per l'effetto curiosità ma al mio pubblico piacciono molto e quindi ogni tanto inserisco anche questo format, anche se a me personalmente non piace. Ovviamente non è diventato l'unico format né il format principale del mio canale, ma tengo in considerazione quello che mi arriva dal pubblico. Solo ascoltando, imparando, sperimentando, puoi scoprire queste cose del tuo pubblico e magari scoprire dei format a cui non avresti dato una lira che invece possono fare la fortuna del tuo canale. Quindi il consiglio è provare nuove tipologie di video per scoprire meglio i gusti del tuo pubblico. Il terzo consiglio è migliorare la comunicazione. Devo ammettere che anch'io sono un po' indietro su questo punto perché ho uno stile che ha sicuramente dei pregi ma che non piace sempre a tutti. Nel tuo prossimo video sforzati di inserire più energia, convinzione, di usare un linguaggio corretto ma che sia anche appropriato e comprensibile per chi ti deve seguire. E poi ricordati che la comunicazione di un video di YouTube deve essere coerente con quello che hai promesso con il titolo del tuo video, non ci devono essere distrazioni. Se il tuo video si intitola come raccogliere i funghi, all'interno del video non mi devi parlare di te o di altre cose, mi devi spiegare e mostrare come si raccolgono i funghi, con il tuo stile, con la simpatia e le modalità che vorrai. Anche perché se aggiungi troppi elementi, introduzioni, ringraziamenti, aneddoti, sigle, divagazioni, il video rischia di diventare troppo lungo anche in correlazione con la promessa del titolo e questo può addirittura spingere le persone a non cliccare. Ho sentito di recente MrBeast, uno degli youtuber più grandi di questa piattaforma, dire proprio questa cosa. Se il titolo del tuo video dà l'impressione che il contenuto sarà un veloce video di 30 secondi, ad esempio un titolo come mi è caduto il portafogli dal balcone, ma l'utente vede già nell'angolino la durata del video di 25 minuti, allora non cliccherà perché avrà già l'impressione dall'esterno che il video non sarà quello che si aspettava. Quindi il fatto di comunicare in modo conciso serve anche a mantenere una coerenza con le aspettative. E se quello della comunicazione è uno dei problemi principali che incontri, ti consiglio di guardare questo video con 6 consigli per apparire più spontaneo e naturale davanti alla telecamera. Alla prossima!